e salve salve a tutti e bentornati al dingo show bentornati al canale dell'arte dell'intrattenimento del collezionismo sì perché arte arte riguarda il disegno quindi perché come avete visto dall'anteprima non parlare di tarocchi perché i tarocchi sono disegni su carte e gli heaven earth è un mazzo dalla bellezza sconvolgente disegnato da jack sephiroth sfida la simbologia senza tempo dei tarocchi con la sua arte straordinaria in cui simboli e sfumature sono nascoste sono intrecciati con la massima maestria in questi tarocchi il confine fra spirituale e materiale è indistinto e tutto diventa chiaro ad un lettore sensibile sullo stile dei rider white smith cioè tutte carte completamente figurate è di facile ispirazione anche per il tarologo che inizia adesso il tarologo principiante l'artista jack sephiroth porta la struttura classica dei tarocchi rider white a nuovi livelli di bellezza espressiva le illustrazioni di questo mazzo evocano un senso di grandiosità mitologica contribuendo a far emergere il significato più profondo di ogni carta per letture vivide e sfumature intrecciate insieme in un mazzo in una razza di saggezza simbolica sì perché questo mazzo è praticamente uno scrigno di pitture perché questi disegni possono come dico sempre benissimo essere incorniciati appesi in una mostra in un salotto perché sono delle vere opere d'arte sulla carta troviamo come si è detto le simboli le simbologie associate cioè numeri romani il nome della carta simbolo ebraico numerologia segno zodiacale e pianeta di riferimento in allegato alla confezione che vi faccia vedere di questi meravigliosi tarocchi troviamo un piccolo manuale di spiegazione del mazzo carta per carta alle misure di 7 x 12 centimetri il manualetto è scritto da jaimi elford che è una scrittrice e appassionata la quale crea e legge i tarocchi da oltre 25 anni offre creative e divertenti interpretazioni con le carte per aiutare a chiarire il caos e la confusione nella nostra vita il mazzo in questione è questo qui questo splendido cofanetto cartonato della scarabeo che è quella edizione quell'editrice che pubblica tarocchi e anche libri inerenti alla tematica vi faccio vedere le varie angolazioni del cofanetto bellissimi i disegni e bella la confezione questo cofanetto questo piccolo scrigno incartonato che contiene i tarocchi il librettino il manualetto che si diceva che comprende un po di spiegazione delle carte un po di storia del del mazzo e carta per carta quindi qui c'è una piccola spiegazione di ogni carta molto abbreviata è un multilingue quindi si trovano inglese italiano francese spagnolo eccetera vi faccio vedere le carte c'è la prima carta di presentazione del mazzo e un'altra carta di presentazione della casa editrice lo scarabeo vi faccio vedere alcune figure perché sono 78 arcani fra maggiori e minori come sarà detto anche nei precedenti video sui tarocchi e vi faccio vedere un po di disegni perché meritano veramente non so come si vedranno nella camera il formato è questo cartoncino abbastanza spesso abbastanza massiccio ma sempre gradevole anche per le letture degli arcani il primo scendiamo che la luce ecco il primo arcano che è il matto ci sono anche le simbologie che si diceva prima legate alla numerologia ai segni zodiacali non so se si vedono ma è scritto qui quindi c'è allora il numero quassù in alto e poi le varie simbologie inerenti al pianeta di riferimento e segno zodiacale al nome della carta che qui in mezzo e questo è il matto bellissimi i disegni del nostro jack sefirot il matto il mago questo stile fantasy sono lucide quindi si vede un po di riflesso la papessa cerco di allontanare avvicinare la carta perché non so come si vedono nel dettaglio l'imperatrice l'imperatore quindi i disegni sono fedeli ai rider white smith cioè le carte che vi ho fatto vedere nel precedente video qui rispecchiano i disegni di quel mazzo il papa sono delle piccole opere d'arte c'è un po di riflesso ma cerco di evitarlo gli amanti il carro la forza cerco di muoverla per evitare il riflesso l'eremita la ruota della fortuna con tutti i simboli esoterici intorno la giustizia l'appeso la morte la temperanza spero che nel video renda l'idea il disegno il diavolo la torre la torre le stelle la luna il sole il numero romano e si vede in alto il giudizio e l'ultima degli arcani maggiori il mondo poi essendo ispirato ai rider smith ha anche gli arcani minori che ve ne faccio vedere qualcuno figurati quindi qui non c'è soltanto la simbologia dei denari delle spade delle coppe e dei bastoni ma c'è anche l'effigie cioè la figura di riferimento ve ne faccio vedere qualcuna l'asso di bastoni il 2 di bastoni come vedete ha una figura mentre i tarocchi marsigliesi e i visconti sforza sono figurati solo gli arcani maggiori questo per quanto riguarda i bastoni poi vi faccio vedere anche le coppe l'asso di coppe bellissimo vi faccio vedere anche i denari che sono tutti raffigurati in questo caso l'otto di denari ha sempre un'immagine dietro quindi sono più facili per chi inizia la lettura sono più facili per essere interpretati di facile interpretazione grazie anche agli spunti figurativi che ci sono in ogni carta quindi arcani maggiori arcani minori con figure di riferimento vi faccio vedere anche le spade l'asso di spade bellissime i segni queste sono dei piccoli capolavori artistici e due le spade eccetera bellissimo anche questo cuore trafitto che si ispira a come vi ho fatto vedere negli altri video ai rider white smith come vedete anche qui il matto è simile ecco di ispirazione ai rider smith quindi heaven heart tarot ci sentiamo in un altro video iscrivetevi al canale un saluto dal vostro dingo